Seguiamo quello che avviene in Emilia Romagna costantemente con un contatto diretto con lo stesso Presidente della Regione, Bonaccini, e col Vice Ministro Galeazzo Bignami della stessa Regione. I dati che vi possiamo fornire aggiornati possono essere sintetizzati in questi numeri. Sono 24 i comuni allagati. Tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi sfiancato la arginatura determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 mm in 36 ore, ma in alcune zone ha raggiunto anche la quantità di 500 mm. Parlo delle province più colpite, quindi Forlì, Cesena, Ravenna essenzialmente. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella Regione è di 1000 mm, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime ore, quindi 36 ore, un giorno e mezzo. Quello che più fa riflettere è il fatto che i due fenomeni di precipitazione così abbondanti si siano verificati nello spazio di qualche giorno, quindi nello stesso mese di maggio. Questo è un dato singolare che ha pochi precedenti. Lo scenario naturalmente già di per sé molto, molto critico e in evoluzione. Nelle prime ore del pomeriggio, dalle prime ore del pomeriggio, secondo gli esperti, si dovrebbe registrare una riduzione della piovosità, considerato che la nuvolosità si abbassa verso l'Italia centrale, ma con densità assolutamente ordinarie rispetto invece a quelle che abbiamo conosciuto nelle scorse ore in Emilia Romagna. Finora le vittime accertate sono cinque. Potrebbe esserci una sesta vittima nella provincia di Ravenna, ma in tal senso non c'è alcuna ufficialità. Sulle persone ritenute disperse. Non intendiamo avanzare numeri, anche con l'auspicio che si possa trattare di un falso allarme. Oggi pomeriggio ho invitato i colleghi Lollo Brigida, Calderone, Nordio, il Vice Ministro Leo, per concordare assieme alla Dottoressa Postiglione, quindi assieme al nostro Dipartimento e agli altri dirigenti di servizio interessati, per concordare il provvedimento che rinvia i termini per gli obblighi di natura fiscali, contributivi, previdenziali e anche per le procedure giudiziarie, per i procedimenti giudiziari. In sintesi voglio anche sottolineare come stamattina abbiamo avuto un incontro, un vertice al quale ha voluto partecipare anche il Presidente del Consiglio, in collegamento dal Giappone, ribadendo la massima disponibilità del Governo nazionale a sostegno dei territori colpiti, gruppi, sia per le prime emergenze, sia per ristabilire le condizioni di normalità. In questo momento abbiamo sulla Regione 700 unità dei Vigili del Fuoco, alle quali si potranno aggiungere anche 100 altre unità provenienti da altre Regioni. Si interviene con 150 mezzi attrezzati soprattutto per il rischio acquatico. C'è un concorso interforze per la flotta aerea, parlo essenzialmente di elicotteri. Operano gommoni con i palombari sin da stanotte, nonostante le condizioni di difficoltà che naturalmente le ore notturne comportano per la mancanza di luce. 300 unità della Polizia di Stato con l'ausilio di sommozzatori, 800 carabinieri distribuiti su sei province, compresa quella di Ancona, mentre altri 115 carabinieri svolgono una funzione di vigilanza e quindi di prevenzione anti-sciacallaggio. 220 sono le unità della Croce Rossa italiana che operano con 76 mezzi. un centinaio le unità del soccorso alpino, di cui 28 per il soccorso in acqua, 50 per il soccorso alpino, 20 unità provengono invece come rinforzi da altre Regioni. 130 sono i volontari specializzati della protezione civile, distribuiti in squadre per il soccorso alluvionale. 340 sono in generale i volontari sempre di protezione civile, arrivati dal concorso di ben 10 Regioni. La viabilità secondaria provinciale è fortemente compromessa, meno difficile la condizione della viabilità primaria, cioè della viabilità statale, strade statali e autostrade. L'autostrada A14 è chiusa in alcuni tratti, ricadendi essenzialmente le solite province di cui abbiamo già parlato, Forlice-Sena, Bologna, Ravenna e Rimini. L'ANAS ha mezzo a disposizione 300 unità con 50 mezzi, essenzialmente dotati di idrovore. Il traffico ferroviario regionale è tutto bloccato. Continua invece a funzionare il traffico sulle tratte nazionali e quello sull'alta velocità. Tanto quello nazionale quanto quest'ultimo dell'alta velocità naturalmente in alcuni tratti hanno l'obbligo di rispettare rallentamenti. 50.000 utenti sono rimasti senza energia elettrica. Parliamo di postazione fissa. 270 unità dell'Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio che naturalmente rimane legato alle condizioni atmosferiche. Nelle cabine non si interviene, come sapete, se c'è presenza di acqua come purtroppo continua ad esserci. Per quanto riguarda la telefonia abbiamo 100.000 utenti mobili privi di servizio e 10.000 utenti fissi per il servizio fisso naturalmente. Il sistema dighe viene tenuto sotto costante monitoraggio. Sono 14 le dighe fra l'Emilia Romagna e la Toscana. non presentano al momento criticità anche perché man mano che arriva l'acqua viene in parte, come sapete, rilasciata e mandata a valle. In ogni caso non sono stati mai superati i livelli di massima allerta.